Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannatasio. Sulla variante di Valico per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Badia e Firenzuola in direzione Roma. Ancora in direzione Roma sulla A1, a causa di un guasto, l'area di servizio di Lucignano Ovest è sprovvista di benzina. Per nebbia banchi fare attenzione nel tratto tra Valdichiana e Chiusi e sulla A12 tra Colle Salvetti e Rosignano. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle sentinelle di vieto di transito per lavori tra via della Villa dei Cedri a via Crocifisso del Lume. Buonversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!